I volontari, ma anche alla regione Liguria e all'autorità che sono poi presenti, questi materiali che abbiamo acquistato con il preziosissimo contributo della fondazione Ademari, che è la fondazione della casa di risparmio di Savona in pratica, perché abbiamo con questa fondazione già da anni in piedi progetti di finanziamento, perché come sapete le fondazioni hanno l'obbligo di investire sul territorio gli eventuali utili che hanno. Possiamo dire con orgoglio che siamo l'unica provincia della Liguria che si ha un po' di a piangere, in quanto qui si vede una piccola parte di quello che abbiamo acquistato in questi ultimi anni, e per l'estatezza si è trattato di 140 mila euro per tre anni e ci hanno permesso appunto di acquistare questi materiali che poi il coordinamento mette naturalmente a disposizione dell'associazione del territorio e nello stesso tempo mettiamo a disposizione anche di regione Liguria e cogliamo l'occasione dell'assessore per chiedergli di aiutarci in questa cosa. Non vorremmo fare la fine degli acquisti, diciamo, di un po' di tempi fa, in cui la provincia di Savona, proprio perché chi non piange neanche a te, si dice che ci siamo sforzati di trovare altri fondi e poi al momento della distribuzione, ad esempio, di mezzi regionali, la regione diceva, ma voi ce l'avete già, non validiamo. Sì, d'accordo, noi ce l'abbiamo già, perché ci sforziamo di raccappacciarci all'ingiro, prendiamo mezzi, appunto siamo riusciti ad avere questa attrezzatura, questi mezzi con contributo, siamo disponibili, abbiamo ristrutturato anche mezzi dismessi, ad esempio, dalla regione, però non ci sembra giusto, da confronto anche dei nostri volontari, che poi quando arriva qualcosa di veramente efficiente, perché naturalmente la regione magari trova i fondi, forse, ci dicano, ma voi non vi servono. Beh, non ci servono, però teniamo presente che quello che noi facciamo potrebbero fare anche gli altri, probabilmente, fuori che noi siamo un po' più piangenti, più lacrimevoli e riusciamo ad avere questo sistema. Abbiamo preso questo camion relativo a macchina operatrice, la macchina operatrice verrà stanziata presso il polo della protezione civile di Villanova, per la movimentazione sia dei carichi, perché... Grazie a tutti.